ragazzi oggi giornata dedicata alla corsa quinge noi abbiamo giornata di recupero guardati bene questi esercizi per il riscaldamento che tra poco ti parlerò del workout ciao ciao ragazzi workout finale per noi oggi è recupero quindi un altro pochettino di corsa degli esercizi che ti faranno recuperare in maniera attiva noi ci vediamo settimana prossima allenati bene ciao 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 ciao